Ultimo brano in programma del nostro programma ufficiale è The Lady Is A Tramp è un brano purale ma è un brano musicale facente parte del musical del 1937 la canzone prende in giro l'alta società di New York e la sua rigida etichetta diventando uno standard pop jazz molto apprezzato tanto che fu registrato anche da Frank Sinatra e della The Gerald negli anni 50 e da Shirley Bassi negli anni 60 diventando in entrambi i casi una delle loro interpretazioni più certe questa sera chiude il nostro concerto come augurio per vivere con spessi e latezza quest'ultima parte di anno e soprattutto grazie di aver vissuto con noi questa magica serata a Ponte di Leni di Richard Rogers The Lady Is A Tramp canta Laura Maggiore Grazie a tutti 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 Grazie a tutti